Presentato all'Aquila, io non ci casco, in montagna usa la testa. Campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza in montagna promossa dall'assessorato regionale allo sport e dalla Federazione Italiana Sport Invernali. Un momento questo a coronamento dell'impegno nei confronti della sicurezza in montagna attraverso l'istituzione del tavolo della montagna, l'attivazione del sofisticato sistema per il distacco controllato delle valanghe attraverso cariche esplosive e del sonar recco, entrambi per la prima volta in una regione appenninica e l'approvazione della carta di localizzazione dei pericoli da valanga. La regione Abruzzo si è caratterizzata in particolar modo negli ultimi tempi come un po' la madre del tavolo per la sicurezza in montagna, come artefice della ricostruzione di una cultura della sicurezza in montagna. Abbiamo avuto delle tragedie sulle nostre montagne che hanno spinto la regione Abruzzo a fare qualcosa. Momento clou della campagna sarà il convegno del prossimo 6 aprile, al quale interverranno tra gli altri il campione del mondo di sci, Alberto Tomba. Tra gli argomenti, le principali novità per la sicurezza sulle piste da sci in vigore dal 1 gennaio 2022, come casco per minorenni e molte più salate. Perché fu il primo a usare il casco e il paracolpi sulle apiste, anche a costo di essere preso in giro nei primi momenti. Lo ricordiamo perché è un azzurro che ha portato i colori dell'Italia all'apice della gloria in tutto il mondo. Tomba è un innamorato della neve, un innamorato dell'Abruzzo e un innamorato del Gran Sasso. La data scelta è significativa per la città dell'Aquila e ci offre, chiude l'assessore, lo spunto per affrontare il tema della sicurezza che deve essere prioritario per le amministrazioni pubbliche, non solo rispetto agli edifici pubblici, ma anche riguardo alla frequentazione della montagna, dove troppo spesso ci si avventura senza la giusta cultura, preparazione ed equipaggiamento.